signori roadhouse originale dell 89 con patrick schwarz mi sembra che si chiama così si chiami così il film è carino le scene di azione sono più belle quelle del remake questo qua che vedete qua sotto però oddio è più e più reale come film questo qua meno meno computer meno meno botte un po più reale comunque un sette e mezzo oltre non va basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like ciao ciao